Vai! Andiamo! 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 Andiamo qua! E' tanto che non andiamo più qua! Dì a Max di venire a letto! Puta! Vai partito! Max a letto! Ma che devo abbassare il volume e urlare! E' vero che c'era la casa questa qua! Dove è andare su questa? Andiamo su questa! Ah non andiamo lì! Andiamo su questa? Andiamo qua! C'è il personaggio qua c'è! I personaggi li abbiamo presi tutti! Ah non lo so! Sai che non lo so! Non è che non è giunto uno! Vediamo! Prese ce l'abbiamo tutte! Se le hai prese! E' starci! Vediamo se neppi la pistola bianca! Ah buona biii! Scudo! Mi assalto! Mi assalto! Aspetta ti butto! Ah ma non sei tu! Pensavo che eri tu questo qua! Bene questa skin che c'è questa acqua qua! E' quella che volevo io! Ma? Guarda il pelo di aghi! Sì ho capito che il pelo di aghi è sporco! Non so! Domani lo laviamo! Sì? Sino lo laviamo stasera! Ah e dalmi senza archi! Cosa? Cosa? Come si fa a dormire senza archi? Come si fa a dormire senza archi? Si può? Papà! Mamma! Appena mi sveglio! No lo laviamo! Che cazzo! Mi asciughiamo col sugar i peli! E me lo metto a lento! Oh quanta roba! Mi lo butti il bidone eh! Sei a posto tu! C'è? Siamo a posto! Devo 5 mi manca! Un po' blu! Un po' blu! Sente! Non l'avevi vista eh! Cosa? Un pompa blu! Un pompa blu l'ho visto ma sai che non mi piace! Cosina! Ah no! Allora ho visto la mitraglietta! L'avevi preso per una parte di prima eh! Sì ma perché... S... Siamo meglio che la pistola è assolutamente molto più veloce la pistola! Sì la pistola è fortissima! Che pompa! Sì la pistola è continua! L'avevi preso il pompa è a... Cosa e quindi non mi trovo tanto! Abbiamo preso tutto qua! No, non credo, ti ho preso tutto. Eh, non credo, poi ho fatto ancora. Gente? No. Sento passi. Ma è il bot, mi sa. Ah, è il bot. Potremmo sparcare di qua sopra. Aspetta, scusa, ma mi incarichi giornalieri? Ma, è scomparsa la roba, scusa. Ma potremmo stare? Ma, ma c'è lo scudi qua? Cosa? Stia madre. E dov'è? Ah, non l'ho visto. Ma qua non siamo andati qua allora. Ma io non l'ho visto. Cosa lo dicevo? Ma basta. Cosa ci sono missioni? Dove devi andare? Eh, va qua, l'ho capito adesso. C'è una chiave, sento. Ma dov'è che? Io sento una chiave. Ma non abbiamo fatto il giro, eh? Infatti ne abbiamo preso tutto ancora, eh? Ma forse sì adesso, eh, però. Più o meno. Hai trovato una chiave? Sì, ma qua c'è qualcosa per prendere con la chiave. Aspetta. Qua c'è qualcosa, vediamo che c'è. Spacchiamo tutto. Vediamo qualcosa, eh? C'è di meridoro, lo prendiamo. Lo vuoi? No, la pistola se la trovi. Eh no, c'è la mitraietta viola qua. Cosa c'è qua? C'è DMR d'oro. La DMR d'oro è mia. Sì, sì, piglia, piglia. Vai. Eh, non si può mica abbandonare un DMR d'oro. Tanto... No, no, no. Allora, aspetta, adesso... Siamo pure dentro. DMR verde qua se vuoi. Per una volta che... No, no, benedetto, c'è l'altro. Dico, per una volta che siamo dentro, siamo messi dalla parte giusta, praticamente, stai chiedendo dalla parte nostra per una volta. Ma qua non è venuto nessuno, non ci credo, non è venuto nessuno qua. In questa zona qua. Tra i campi. Ma li faccio metti aperti qua che sono. Mi trovi fuca assolutamente aperto. No, ma c'è il falco, eh? Che facciamo? Lo apriamo? Nasconditi in un cassonetto. Sì, ma... Ma... T'ho bugata, ma... Bossa blu! Sto lagando un casino. Rattatore. Eh... M***a, poi un po' più viola mi ha dato. Martello... Lo sto lagando! Ma aspetta una cosa, ma... Il falco lo prendo, io lo prendo e tu. Il falco. Oh, secondo me, io c'ho... Spazio, eh. Eh, lo prendo, lo prendo. Qua ti sento che ho sentito a scuocato Mi laggi bene lì però Aspetta la mappa Andiamo a prendere la mappa Puoi tenere la porta aperta e mettere il puff che non entri Ah no ora chiude la porta perchè adesso non lo lago più Ah non passa il segnale Ah mi chiude la porta? No se mi chiude la porta il segnale arriva Ah O persino la porta è amianto addio Dove che è mica Sì stante sta cosa E' qua sopra devo eh Sa anche il close aspetta però Eh aprilo quel Mi sento gente fa merda Non so pieno di cure eh Non riusciamo a salire di qua Ah non ci arriva che spiglia però Non so Ah non ci arriva che spiglia Come una roba lì qua La roba lì qua Stappamando Stappamando Ma tu hai fatto questo Cavolo di Non è qua Dei fai il giro lì eh Fatto 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 il il di mele d'oro c'era bisogno non c'era bisogno ma tu lo dmr d'oro eh si sto conto l'ho più, non ci sono due e il pompa d'oro? eh, pompa d'oro... non so io io, io lascio questo io questo questa pompa qua è forte però come sta sparando? non lo so, mi ha detto un culpo di qua è arrivato aspetta, devono scambiare a qualche parte potremmo fare con il dmr questi qua potremmo spararli sono qua sotto eh penso eh perchè li sento eccole mi sento qua ma stanno un po' da... dai però che sfiga dove sto? vai di qua ah ma tu sei di là io stavo guardando dall'altra parte si ma di... ma di là c'è pure gente dall'altra parte dai mi sa eh ma è che mi imbosco e vado con il coso che così li segno vai vai se li riesci a vedere lì se esce a segnalare lì ma anche quelli sono morti finalmente l'ho uccisi no quello l'ho uccisi eh no c'è gente di qua vabbè sento sparare di qua io sento chi è? ma perchè il bot ci sta sparando a te? ma è il bot quello eh capisco perchè sta sparando a te guarda l'hanno attivato il bot e l'hanno attivato quelli la comunque eh quelli l'ho visto e quelli che uno la ehm che sono bot quelli? perchè c'è il martello quello? ma che guardo ma dov'è un bot quello lì col martello? ma c'è il martello e il bot no uno l'ho battuto no puoi prenderlo lo devo portare da te poi c'è la taggenda qua di questa parte qua se li sparare ancora non so eh sto zaccando adesso vedi sei lì vedi no ma ma non sono bot però eh a me non credo ma scomai i bot usano il martello da quando non ho visto un bot usare il martello eh alcale addio cioè i bot usano il martello mai l'ho visto via 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 da dove? questo di là ho visto sparare eh anch'io ma questo non c'eva una mitraglietta eccolo qua eccolo qua hai deciso? sta arrivando sto maledetto sta arrivando ma non riesco a capire da dove ammazzalo ammazzalo eccola è morto con un colpo nooo lo dovevo uccidere io ma non pensavo che a me arrivare con un colpo è morto con un colpo è morto con un colpo ah perchè le avevo fatto il danno ammazzalo ammazzalo e me lo potevi dire cazzo no e quelle cosa sono meduse? eh dove? ma qua ci sono i droni dopo c'è gente qua che spara guarda io vi sparo eh chi è? no c'è altra gente qua chi che mi ha sparato? hai sparato tu? no caro eccole l'ho visti forse la c'ho visto qualcuno la forse non sono botto quelli comunque te lo dico ehm sta arrivando da safe le dobbiamo andare in safe attenzione non li vedi? erano lì sulla bella montagna di fronte sono nascosti questi sei la? che non ti vedo? non ti vedo ok faccio che non siamo la qua 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 siamo dentro possiamo metterci anche qua vediamo se li vediamo dov'essi guardare qualcosa li dov'essi andare a vedere ah infatti è la l'ho visto ma non ho visto lo vedi? non so se lo vedi ma quanti siamo a sette? ma non ci sono ne fatto ancora eccolo puntalo puntato eh l'ho visto ma l'altro ci dovrebbe essere due no? uno solo eh è uno senza che andrei sparare colpisci uno solo mi sparo? no ecco sono in due l'ho visto l'altro qua è a fianco a lui eh era lì tipo eh chi è? va da dietro e ha ucciso quello almeno eh quale? dove? sto qua qua oh oppa aspetta e sparò gli altri intanto quello di là no è andato via adesso che gli stavo sparando a posto le sciocidano? lo so lo so le stanno usando il potere quelli di là non sono gotti quelli di là comunque eh lei ci so? stanno di là eh tipo verso di là non so ho visto qualcuno lì ma sono spostati? no forse è dietro la pietra ho visto qualcosa lì dietro se c'è qualcuno lì dietro vedo poi il pizzo gli vedo ma non riesco no merda dove andare giù cavolo ha tolto 5 di vita mi ha tolto li ha andati qua comunque sono tutte e due le squadre lì dobbiamo sbrigarci lì eh dobbiamo approfittarne e ora come facciamo salire eh fai il giro fai il giro eh di qua io sto facendo il giro si va se lo dobbiamo si stanno uccidendo dobbiamo intervenire guardiamo la domanda eh ho capito che dove sei tu leandro è la sto qua sei dietro? che sfiga però no sto qua davanti io un pappagallo si mettiamoci qua sopra che sono? allora uno è ancora lì uno è da sopra ancora quello là è lì e quello là comunque stanno ancora sopra lì ecco uno è sceso adesso oh c'è da sopra no l'ho massacrato però ecco lì lì sono assieme sono assieme sono assieme è un colpo ancora io uh però l'ho battuto comunque l'ho battuto te lo dico se riesce a uccidere guardate ah guardate no no dov'è? dietro alla pietra? non lo so sta venendo eccolo uh via ce l'hai dietro bravissimo ma tu l'hai morto? gg eh no mi ha buttato col martello in fondo l'ho buttato